Attene via, piccolo scordio nero! E va bene, me ne vado. Ciao ragazzi, ciao! Ehi, perché tremi tanto? Tremo perché ho tanta paura del compito in classe che dovremmo fare. Ridi tu, ma io da aritmetica non ho mai capito niente. Attenti, problema! La vostra mamma va al mercato ed acquista 15 uova a lire 40 l'una. Quanto spende? Ed ora ascoltatemi, il primo che sorprendo a copiare lo sbatto fuori come una ramazza, capito? Sì! Bene, 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 qui si parla di uova e le uova sono al mio forte. Oh mamma mia! Che facile! Su, su, scriviamo! Soluzione! La mia mamma non spende niente perché le uova non le comprerà. Se le fa, ecco fatto! Se le fa, ecco fatto! Oh copione! Per te non è la stessa cosa? Hai mai visto la tua mamma fare le uova? Calimero, cosa fai? Volevo vedere cosa scriveva. Ah, tu allora volevi copiare eh? Ma veramente io? Fuori ti dico! Signor maestro! Vattene via, piccolo sgorbio nero! Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però! Siamo alle solite Calimero! Tu non sei nero, sei solo sporco! Là! Eeeh! Ava! Come l'Ava! Sì, perché Ava è bucato garanzia. Garanzia di un bucato bianco e perfetto. Sì, Ava è davvero! Bucato garanzia. Garanzia di un corredo sempre nuovo. Ne volete la prova? Guardatelo contro luce. Lavato con Ava il tessuto si mantiene integro, intatto, come nuovo. Bucato garanzia. La stessa garanzia che vi dà Ava per lavatrici extra. Vedete? Il tessuto... Tiene! Sono prodotti che partecipano al grande concorso Miralanza.